musica 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 una madonna? ma che ci fai qua? eeeh vado ad andalo perchè mi hanno detto che oggi 23 dicembre c'è una festa ahhh ma si un concerto eeeh 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 andiamo andalo andalo fa suonano i sound punch i sound punch eeeh 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 e voi dove andate? siamo alla pine rock fest eeeh eeeh ma è quella festa rya ad andalo dove suonano che bella ooo dove sono i sound punk eeeh beeeeeeellaa musica Il 23 dicembre Ad Andalo Alvine Rockfest Saltpam